Ci troviamo al mercato settimanale di Sanremo, oggi c'è stato un sondaggio tra i 19 venditori ambulanti che si trovano dietro il mercato annonario e che sono destinati a essere spostati per via dei lavori alla struttura. Presidente, che cosa è emerso? Facendo seguito sinceramente a un vostro articolo pubblicato ieri in cui si dava per scontato la volontà dei miei colleghi nonché operatori del mercato di Sanremo di accettare la soluzione dietro la stazione, la faccio breve tanto per capirci, io e il mio vicepresidente Piccolo Pino ci siamo permessi di fare un sondaggio perché a noi le notizie arrivavano in maniera diversa. Questo sondaggio è stato fatto, è qua nelle mie mani e a tutti i 19 operatori abbiamo proposto tre soluzioni. La piazza dei motorini, dove ci troviamo adesso tanto per capirci in piazzeroi, tutti a Sanremo la conoscono, Borea Dolmo o il mare. In prima battuta tutti e 19, il 100% degli operatori si sono dichiarati assolutamente favorevoli a essere spostati, visto che dobbiamo subire il disagio, questo lo diamo per scontato, siamo ben contenti che venga effettuata questa bellissima ristrutturazione, nella piazza dei motorini e di conseguenza abbiamo pensato di continuare a insistere con l'amministrazione affinché questa cosa possa essere effettuata. Stranamente, e questa cosa ci ha più che altro sorpresi, ma non solo, ci ha veramente gratificati, il signor Bianchieri, il sindaco del comune di Sanremo, si è presentato in mezzi a banchi a chiacchierare con noi delle problematiche che effettivamente stavano uscendo, uscevano da questo mercato. Così direttamente, in linea diretta, dopo aver effettuato il sondaggio, gliel'abbiamo presentato in maniera ufficiosa, comunque visto che la nostra volontà è assolutamente determinata, determinata a rimanere prima di tutto un mercato completamente coeso e a poter far superare alle persone che dovranno subire i due o tre mesi di lavoro in maniera non letale come potrebbe essere se non potessero lavorare realmente per due o tre mesi, la situazione della ristrutturazione del mercato. Aspettiamo dalle parole del signor sindaco, avverranno un ulteriore confronto al loro interno e ci comunicheranno quello che saranno le loro decisioni.